Darby lavorava 4 ore al giorno, poi in carré, il più grande matematico, il più grande persona conta in tutti i campi del mondo, poi in carré, col teorema di Poincaré che non sono riusciti a risolverlo per 30 anni. Lavorava 3 ore al giorno. Allora, di che lavoro stiamo parlando? Allora, in tutti i piani mondiali, in tutte le associazioni del mondo, la prima priorità è la povertà, che non chiamerei neanche povertà, perché la povertà è uno stato esistenziale, è uno stato esistenziale la povertà. Puoi anche non sentirti povero con 500 euro al mese. Io parlo di miseria, la miseria delle città, la miseria che disintegra la dignità delle persone. E noi che cosa abbiamo fatto? Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo legalizzato con Joe Buck, la povertà l'abbiamo legalizzata, la povertà è legalizzata con Joe Buck e ce ne sti abbattiamo i coglioni del povero e del misero.